RELAXI YOURSELF ASMR potrebbe dirmi nuovamente il nome e cognome e la data di nascita solamente posso darle del tuo? allora ok si immaginavo quindi è caduto si infatti è proprio vicino all'occhio e speriamo che comunque non siano stati riportati i danni alla vista lei ha notato qualche piccolo cambiamento? leggermente ok allora noi adesso oggi andremo a capire se quel leggermente è veramente un leggermente che poi in qualche modo può ritornare stabile oppure se è qualcosa che purtroppo gradualmente andrà a peggiorare quindi andremo a vedere come possiamo fermare tutto ciò ok allora prima di tutto vi metto un guanto due non sono necessari allora vi faccio vedere questo tocchetto prima di tutto voglio andare a tamponare con una salvietta all'aloe che fa molto molto bene tutta la zona che è stata traumatizzata diciamo ok 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 chiudiamo un pochino il suo occhio sinistro ok 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 potrei scrivere potrei scrivere come è accaduto ok 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 quindi è inciampato e poi andremo ad applicare se la cosa non è troppo grave un semplice un semplice cerotto che è specifico per queste situazioni d'accordo allora ora io qui con me ho questa penna che non è una semplice penna perché ha questa lucetta e andremo a verificare se la vista è tutto a posto ovviamente deve tapparsi l'occhio destro e utilizzare solamente il sinistro d'accordo? ok allora adesso io farò spuntare la penna da qualche parte e lei mi dovrà dire anzi tu perché ci siamo dai del tu tu mi dovrai dire dove la vedi per prima ok quindi se è destra, sinistra, nato e basso ok 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 adesso seguo attentamente la lucetta ok 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 in realtà non sembra avere dei tranqui quindi quindi certo la potta non è che abbia fatto molto bene però le garantisco che a livello di vista comunque ci siamo ok adesso appena passerà il confiore e tutto il resto starà una bacchia ok ok andiamo ad affilare questo ce l'ottimo fatto apposta per queste per queste situazioni sono sono quelli fatti così qui ne ha mai visto uno ok andiamo ad applicare che che sono non che dunque farò togliere i miei guanti abbiamo finito metto un po' di crema sulle mani perché dove i guanti secondo me un po' di crema ci sta a fare male provo vi da fastidio il gelato? dovrà tenerlo soltanto qualche giorno grazie per la visione